Ospite quest'oggi nei nostri studi televisivi Luigi Croceri, presidente della Proloco del Comune di Torre San Patrizio, che anche in questo 2022 organizza la 47esima edizione del Premio La Torre d'Oro, che si svolgerà sabato prossimo, sabato 30 luglio, a partire dalle ore 21 in Piazza Marconi. Anche quest'anno protagonisti tantissimi bambini. Sì, anche quest'anno, dopo diverso tempo, un paio d'anni abbondanti di fermo, causa quello che tutti noi sappiamo, siamo riusciti a riproporre in Piazza Marconi questa manifestazione che è arrivata alla 47esima edizione, è una tra le più longeve delle Marche, dove i bambini cantano live canzoni scelte dagli ultimi 4 anni dello Zecchino d'Oro. C'è una band e i bambini cantano live. Una quindicina saranno i bambini che si esibiranno, lo ricordiamo, piccoli, dai 5 agli 11 anni. Sì, sono bambini dai 5 agli 11 anni, compiuti il 31-12-2021. Quindi sicuramente qualche bambino avrà qualche mese in più, ma non è questo il problema. Lo spirito di questa manifestazione è solo ed esclusivamente quello di fare avvicinare i bambini alla musica, al divertimento, al sano divertimento, perché io ho visto le prove, si stanno divertendo, anche se è caldo, perché in questo periodo fa molto caldo, però si stanno divertendo. Abbiamo messo su anche un coro con 10 ragazze, anche loro stanno contribuendo a divertirsi e a farci divertire, speriamo. Una manifestazione, come ha detto lei prima, nata tantissimi anni fa, con lo scopo appunto di avvicinare i giovani alla musica, perché è fondamentale nella vita di ognuno di noi. Sì, io mi ricordo da ragazzino, perché quando è nata io ero ragazzino, c'era questa volontà di queste persone che hanno iniziato questa esperienza, proprio di avvicinare i bambini alla musica, che è uno dei più sani divertimenti, secondo me, per qualsiasi ragazzo, io da adulto ho iniziato a suonare la tromba, quindi senza avere nessuna cognizione, quindi secondo me è la cosa più bella che ci possa essere. Come diceva ai bambini, stanno eseguendo in questi giorni le prove, come li ha visti sul palco? Allora, qualcuno è impacciato, anche perché abbiamo dei bambini che hanno appena compiuto i cinque anni, però loro si divertono e questo mi fa piacere, sono spensierati, quelle che non sono spensierati sono magari i genitori, che magari hanno delle ambizioni, però ho visto anche da parte dei genitori una sana partecipazione, senza nessun tipo di problematiche. Una bella iniziativa questa per Torre San Patrizio, che ha in mente ed in programma anche altre iniziative per questa estate 2022. Allora, intanto portiamo a termine questa iniziativa perché è stato un periodo abbastanza duro e particolare. Comunque poi ci sarà ad agosto, non mi ricordo bene le date, ma dovrebbe essere il 19-20 agosto, una manifestazione a Villa Zara organizzata in collaborazione con il Comune, ci sarà un planetario, insomma tutta una situazione in divenire che comunque è una bella situazione.